Un solo obiettivo, vincere oggi contro l'ultima in classifica, la Caronnese non ha altre possibilità se vuole accorciare sulla zona playoff. Tre minuti di gioco e 0-0, attenzione a quest'errore, trattenuto Migliavacca, il tiro finisce sul palo, la palla che rimane lì, Corno rientra sul sinistro, Corno va al tiro, è il gol del capitano, Federico Corno! Terzo minuto, Caronnese 1-0, Accademia Vittuone 0, Emanuele De Bono che mette giù la sfera, cerca con questa palla lunga il colpo di testa di Corno, trova Migliavacca in area di rigore, Migliavacca! Ed è raddoppio, 2-0 al decimo minuto, il gol della Caronnese ha raddoppiato Andrea Migliavacca, Vittuone, attenzione a Zaffi che si propone sulla sinistra, Parise al centro, così come Pereira va all'uno contro uno, in realtà ne ha due addosso Zaffi che però non scarica il pallone, lo mette ora dietro il tiro! E la palla fuori di poco! A fine Pucca, in avanti, ancora per Mathieu, vede l'inserimento di Napoli, lo serve bene, Napoli in mezzo! Oh, Migliavacca! Di testa non riesce a mettere il pallone in rete! Pallone giocato di prima, ha girato di nuovo verso Zoppi, l'anticipo di Terraneo, poi Napoli al limite dell'area, Napoli può tentare anche il sinistro! Che bel gol di Gabriele Napoli! Lunga Upat, ex Sant'Angelo, dove è stato allenato da Mister Gatti, per lui due anni nell'Odigiano, prima di tornare alla Caronnese! Migliavacca, che giocata! Migliavacca al tiro, respinge Beolchi, la porta è vuota ancora Beolchi! Paratissima di Beolchi! Punizione, bella partita di Pablo Giulio Zaffi contro la Solbiatese, un gol in fuorigioco, sul putteggio è 0-1! Attenzione a Matteo per il contropiede della Caronnese, palla per Corno, con il sinistro distribuisce, arriva dalle retrovie Morlandi, prova il tiro! Che gol! Bellissimo gol di Marco Morlandi, ed è 4-0 per la Caronnese dall'inizio della partita, 4-0 per la Caronnese, batte ora questo calcio d'angolo, palla messa dentro, arriva un colpo di testa nel mucchio! E arriva il gol, rete, segna di nuovo la Caronnese, il gol lo ha messo a segno, Marian Pucca di testa in mischia, a centrocampo, la squadra di casa, Corno lanciato nello spazio, Corno la mette al centro, dove Zoppi si libera al tiro! E arriva il gol, e arriva il sesto gol della Caronnese, Leonardo Zoppi. Linea difensiva del Vittuone. E finisce qui la partita, triplice fischio dell'arbitro, la Caronnese si porta a 40 punti in classifica, battendo 6-0 l'Accademia Vittuone, fanalino di coda.